ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco primondren a cosa serve primondren a un parafarmaco appartenente alla categoria degli infusi tisane pronti o da preparare è commercializzato in italia dall'azienda specchiasol srl informazioni commerciali titolare specchiasol srl concessionario specchiasol srl categoria di appartenenza infusi tisane pronti o da preparare confezioni primondren sciroppo 250 ml indicazioni primondren no alcol garantisce un giusto apporto di nutrienti che favoriscono una maggiore funzionalità dei fisiologici processi drenanti dell'organismo descrizione e caratteristiche no alcol no zuccheri aggiunti no conservanti no coloranti con edulcorante avvertenze tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto di tre anni non assumere in gravidanza gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita non superare la dose giornaliera consigliata conservare il flacone in frigorifero dopo l'apertura componenti e ingredienti prugna prunus domestica succo concentrato mela malus comunis succo concentrato sodio lattato pilosella iracium pilosella piante intera e s aroma tia di java ortosifon stamineus e s terrassaco terraxacum officinale radice s betulla betula alba foglie s solidago solidago virgaurea parte aerea e s acidificante acido lattico meliloto meliloto officinale parte aerea e s bioflavonoidi d'arancia rossa citrus sinensis bar dulcis scorza e s potassio cloruro edulcorante neosperidina dc analisi media analisi media per 100 ml per cucchiaio 10 ml prugna succo concentrato 102 8 g 10 3 g mela succo concentrato 350 g 350 mg pilosella is una e 56 g 156 mg ortosifon e s 908 mg 91 mg terassaco radice s 908 mg 91 mg solidagno virgo aurea e s 648 mg 65 mg betulla e s 648 mg 65 mg meliloto e s 389 mg 39 mg bioflavonoidi d'arancia rossa 389 mg 39 mg fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato